Per sapere la quantità di risorse del computer utilizzata da ciascuna delle pagine web aperte, clicca con il pulsante destro del mouse sulla parte superiore della finestra di Google Chrome e seleziona Task Manager. Verrà visualizzata la memoria utilizzata per ciascuna scheda. Puoi anche chiudere le schede che hanno un comportamento anomalo cliccando su Termina processo all'interno di Task Manager. Grazie per la visione!